Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questo incontro, grazie per essere qui, il benvenuto è a voi, benvenuto ai nostri ospiti che vi presento brevemente prima di dar loro la parola, Anna Maria Candela, dirigente del Dipartimento Cultura della Regione Puglia e anche, mi piace sottolinearlo stasera visto l'argomento di cui discutiamo, dottoressa Candela, anche dirigente politico importante e presidente della Giusta Causa che è l'associazione che ha avuto e ha un ruolo importante nell'animazione del dibattito politico in questa regione, soprattutto nella città di Bari ma anche oltre la città di Bari. E il nostro ospite, qui alla mia sinistra, che è il professor Pio Giorgio Ardeni che è l'autore del libro che presentiamo, che è questo libro rosso, le classi sociali in Italia oggi pubblicato dalla terza è un libro che è uscito due settimane fa, 15 giorni fa, è a mio giudizio un libro importante, sono molto curioso di vedere come il mainstream, la cultura italiana, politica e anche scientifica e intellettuale accoglierà questo lavoro questa è una curiosità credo anche sua professore, ma è mia particolare perché è un libro che reintroduce che riporta all'attenzione del dibattito politico e culturale un tema che sembra ormai superato, obsoleto, vetusto quello delle classi sociali. Diciamo la misura di questa cifra, la cifra di questa considerazione che si ha della classe sociale possiamo ricordare con le prime battute del libro, con l'incipit del libro che ricorda una celebre definizione di classe media che ci ha dato Tony Blair nel 1999 sono due definizioni riportate nell'incipit di questo libro, la prima è la lotta di classe è finita 1999 Tony Blair, la seconda siamo tutti classe media. Quindi diciamo il tema principale che è affrontato uno dei temi principali, quello che a me in modo particolare ha colpito di più nella lettura di questo libro è proprio questo tema di che cosa è, che cosa è stata e cosa è diventata la classe media e a partire appunto dagli anni 90 che nel dibattito culturale, politico, almeno quello europeo-occidentale diciamo il concetto, il paradigma di classe media è diventato centrale nella lettura delle trasformazioni sociali ed economiche di questa parte di mondo e in che misura, in che modo è diventata centrale nella misura che è qui sintetizzata nella battuta di Tony Blair, cioè il fatto che questa classe media è andata progressivamente allargandosi, è andata progressivamente espandendosi fino ad assumere dentro di sé a sussumere dentro di sé, mi pare che sia questo il verbo che il professore Ardeni utilizza gran parte di tutte le altre classi sociali. È vero? Non è vero? In che misura è vero? Questo è uno dei temi che il libro tratta, non voglio anticiparvi troppo della riflessione proposta dal professor Ardeni ma è una delle domande che ci accompagnerà in questa chiacchierata di questa sera. In un quadro più complessivo che è quello dello scarso utilizzo ormai della categoria stessa di classe sociale. Il libro esce dalla terza ed è implicitamente ed esplicitamente ricollegato a un classico di 50 anni fa, sempre pubblicato dalla terza, che è saggio sulle classi sociali di Silos Labini che all'epoca fece discutere tantissimo nel nostro paese, sia dal punto di vista politico che da quello scientifico culturale. Ed è un richiamo esplicito da parte del professor Ardeni a quel volume e a quell'analisi di Silos Labini il punto di partenza di questa riflessione. Una riflessione che si arricchisce anche di una serie quantitativamente importante di dati. È sempre difficile in un libro di questo tipo mettere tanti numeri ma i numeri in questo caso più che negli altri casi sono davvero importanti. In appendice ci sono delle tabelle statistiche molto interessanti. La prima, quella che avrei voluto stasera anche provare a riprodurvi, ma questo è l'unico spazio di lector che non ci dà la possibilità di visualizzare su uno schermo grande qualcosa, ma recupereremo alcuni di questi numeri. Ci siamo detti in questi minuti di chiacchierata introduttiva che recupereremo alcuni di questi numeri. In questa tabella, utilizzando la classificazione delle classi sociali che Silos Labini utilizzava nel 1974, i dati ci consegnano una fotografia di come si è cambiato o non cambiato il profilo delle classi sociali fino ai giorni nostri, fino alle ultime rilevazioni statistiche. In questo contesto si inserisce naturalmente un tema caro alla fondazione di Vagno, caro all'Hector che caratterizza sempre tutte le nostre presentazioni e il lavoro più generale e culturale della fondazione, che è il rapporto con la politica. A rapporto con la politica è dedicato l'ultimo capitolo di questo libro, una chiusura amara, sferzante, dice la dottoressa Candela. Amara e sferzante sono due aggettivi che proponiamo alla vostra riflessione e che ci mostrano in modo evidentissimo come il dibattito politico... Ricordiamo a questo proposito che il penultimo libro che c'entra molto col discorso che stiamo facendo del professor Gardini è un libro sul populismo o meglio, non sul populismo soltanto dal punto di vista del fenomeno politico-elettorale ma delle basi sociali ed economiche di quello che noi chiamiamo oggi populismo e capite che le due cose si incrociano in maniera importante. Io l'ho già fatta molto lunga in questa introduzione perché invece i protagonisti del confronto e del dibattito sono i nostri ospiti e prima di dare la parola al professor Gardini chiederei ad Anna Maria, chiederei a dottoressa Candela di dirci come ha letto questo tema della classe media, della crescita esponenziale della classe media e del fatto che a un certo punto uno dei leader della sinistra, laborista, riformista, come la volete definire, d'Europa ha detto che la classe media ormai aveva definitivamente assorbito ogni altra classe sociale. Sì, Piero, io l'ho letto due volte, nel senso che in moltissimi dei punti, le sollecitazioni che il professor Ardeni lascia a chi legge questo testo che è molto impegnativo non solo perché non tutti hanno la dimestichezza e l'amore per i numeri che ha qualcuno di noi ma è molto impegnativo perché argomenta molto bene, io credo almeno per com'è, l'ho letto alcune delle considerazioni, anche quelle più amare, però devo dire che c'è anche un pizzico di ottimismo io ho letto anche quello nell'ultimo capitolo. Dicevo, l'ho letto guardandolo da due punti di vista differenti, quello di chi per lavoro costruisce politiche e soprattutto si occupa di politiche distributive per definizione, le politiche di welfare, le politiche culturali, le politiche di sviluppo locale lo sono e il conflitto distributivo è una cosa di cui sicuramente poi proveremo a parlare e dall'altro lato come persona appassionata di politica e devo dire che senza entrare ancora diciamo nel merito di alcune questioni perché ovviamente vorrei lasciare anche io a lei la possibilità di scegliere alcuni degli argomenti più pregnanti, devo dire che ho letto diciamo anche una elaborazione coraggiosa rispetto alla politica del passato e quella del presente, la ricostruzione degli ultimi decenni ma degli errori della sinistra negli ultimi dieci anni è agghiacciante, lo dico non solo perché sono gli anni che magari ricordo meglio anch'io ho vissuto più direttamente ma è agghiacciante e accanto a questo c'è più che uno spiraglio, una prateria che lei disegna a partire dai numeri e a partire da questa benedetta classe media ma anche e soprattutto a partire da quella classe operaia che diciamo la dico così non è andata in paradiso ma è solo uscita dai radar della politica fino ad ora, ecco c'è una prateria della quale non si sta occupando nessuno, neppure la politica populista della Lega, dei 5 Stelle di chi di volta in volta si è trovato a fare questo esercizio diciamo di politica populista davvero nessuno da molti anni si sta occupando e ha messo a fuoco quello che è successo nella nostra società che è carne viva, economia, politiche abitative, politiche urbane e tanto, davvero politiche dell'istruzione e tanto altro e quindi devo dire che è un libro da un lato sferzante ma dall'altro lato a volerlo leggere come dire offre il lavoro ai politici dei prossimi vent'anni perché poi non è una cosa che è una sfida che si raccoglie in poco tempo, è un libro veramente che guarda molto al futuro nonostante che affondi le radici in secoli e sicuramente molti decenni del secolo scorso Bene, grazie, grazie di queste due introduzioni che hanno già detto tante cose Io in effetti spero, immodestamente, che questo libro potrà far discutere come fece discutere quello di Paolo Silo Slabini che era il primo tentativo da parte tra l'altro di un economista un economista riformista, aveva lavorato con il governo del centro-sinistra, con Paolo Leone aveva contribuito alla stagione della programmazione, di guardare alla realtà della struttura sociale italiana con un occhio che fosse quello di dire ma come sono i numeri, come sono le proporzioni e venne fuori questa cosa che al tempo fece molto discutere perché già anche a quel tempo c'erano queste vulgate, o se vogliamo questa narrazione come si dice oggi, che c'era la borghesia e c'era la classe operaia no, Silo Slabini mise chiaramente in luce che non c'è solo la borghesia e la classe operaia ma c'è anche questa che chiamiamo classe media che anzi mise in luce che era bella corposa ed era quella che stava dietro la sua analisi aveva anche poi il risvolto politico il voto democristiano spiegava una certa dinamica del voto socialista spiegava cosa stava succedendo al partito comunista e per questo fece molto discutere perché c'era questa idea e lo stesso Giuseppe III quando dice ma sono 50 anni che usciranno, saranno 50 anni questo libro ha due anni ci abbiamo pensato due anni fa perché non facciamo, perché non fai non provi a guardare proprio dopo le radici del populismo perché non provi a guardare alla situazione italiana usando lo schema o partendo dallo schema di Silos e vedere dopo 50 anni che cos'è cambiato allora, da un certo punto di vista è cambiato tutto è ovvio, lo sappiamo ma è cambiato tutto in tanti sensi è cambiato tutto perché naturalmente la classe media non è più quella di allora ma non solo perché, come dire, sono cambiate le cose banalmente ma c'era qualcosa che distingueva la classe media che non era operaia allora, Paolo Silos Labini era un economista cioè era uno studioso serio lui da studioso è partito, come dire, dai fondamenti che cos'è che distingue le classi nella lettera degli studiosi cos'è che distingue la classe? fondamentalmente lui prendeva un punto di vista marxista che poi era stato fatto proprio anche da Weber da Max Weber e diceva che cos'è che distingue le classi? è quella che si chiamava la proprietà dei mezzi di produzione cioè gli imprenditori, insomma, quelli che chiamavano i borghesi sono quelli che possiedono le imprese i lavoratori sono gli altri sono quelli che non possiedono i mezzi di produzione però dentro c'è, appunto, questa non ci sono solo, come dire, i proprietari e gli operai ma c'è anche questa classe che non si riconosce negli operai perché sono o impiegati o sono classe media autonoma cioè non sono i grandi imprenditori sono i piccoli artigiani ma sono anche, non so, dagli idraulici tutte le categorie di lavoro autonomo i commercianti sono tutte queste figure che non sono i grandi borghesi ma non sono nemmeno gli operai e poi ci sono questi impiegati che non, insomma, tutta quella categoria che non possiede i mezzi allora perché è cambiata la classe media? ma perché Tony Blair ebbe a dire questa allora, bisogna ricordare io lo ricordo c'era stata prima Margaret Thatcher che aveva detto quella famosa cosa non esiste la società non ci sono le classi ci sono solo gli individui però è stata decisiva perché è stato l'inizio della fine di quel modo per la sinistra ma come? non ci sono le classi e infatti si arriva a Tony Blair no, la guerra di classe è finita siamo tutti classe media era la risposta da sinistra a questo discorso non ci sono più le classi ma era la risposta sbagliata a parte che non lo diciamo solo oggi lo si poteva dire già allora che era la risposta sbagliata perché la lettura di Tony Blair partiva da un dato che poi è il motivo per cui per tutti questi anni non si è più parlato di classi cioè si confonde il tenore di vita fino anche il reddito con invece una condizione che non è quella del reddito ma è quella occupazionale io posso anche avere un reddito mediamente alto ma se io devo fare qualcosa che mi dice il mio superiore sono comunque un dipendente cioè non dipende dal reddito la condizione di classe la condizione di classe è qualcosa d'altro del reddito allora siccome effettivamente dagli anni 60 fino agli anni 70 e 80 era aumentato il reddito il tenore di vita medio diciamo pure per l'80% della popolazione allora sulla base di questa considerazione sì abbiamo tutti allora siamo tutti classe media sì ma non sono e lì si viene al dunque delle classi da quegli anni fine anni 70 e 80 fino fino diciamo pure ai primi anni 10 del nuovo secolo e in parte fino ad oggi è prevalsa questa narrazione per cui siccome abbiamo tutti un livello un tenore di vita più o meno omogeneo non ha più senso parlare di classi certo ci sono i super ricchi lo sappiamo e certo ci sono i poveri ma i poveri sono un incidente no c'era questa idea sono quelli che insomma fino a che però è cambiato anche qualcos'altro ha cominciato a permeare il discorso pubblico il discorso e qui anche il discorso della politica questa idea che come dire in uno slogan si può dire è colpa del neoliberismo al di là della che cos'è la fondamentale ideologia cos'è che caratterizza fondamentalmente l'idea come dire cruciale alla radice del neoliberismo è questa idea che del liberismo vuol dire liberi di fare liberi di agire liberi che siamo tutti uguali e quindi dipende il successo individuale nostro dipende da quello che facciamo questa idea del merito no siamo tutti uguali siamo tutti classe media quindi abbiamo tutti le stesse possibilità e se non ce la facciamo è colpa nostra l'abbiamo interiorizzato al punto che il merito è diventato una questione individuale non ce la fai tuo figlio non ce la fa è colpa sua e si colpevolizza ovviamente perché se non ce la fa vuol dire che non si impegna abbastanza e no poi quando andiamo a guardare i numeri e poi scusatemi qui siamo in Italia meridionale il figlio di un operaio dell'Italia meridionale non ha le stesse opportunità del figlio di un operaio dell'Italia settentrionale non solo ma il figlio di un operaio non ha le stesse opportunità del figlio di un non lo so dirigente d'azienda non c'è bisogno che sia un super ricco perché non è così non è così per una serie di fattori allora io cerco di analizzare cioè non è solo non è solo banalmente una questione di reddito perché poi alla fine anche quello conta allora l'istruzione non è più per tutti lo sappiamo l'istruzione è diventata classista ma scusate se voi andate nelle scuole ma già nelle scuole medie comincia il processo allora il professore che dice ah ma questo questo ragazzo è portato per la matematica sì ah ma questo ragazzo no questa ragazza è meglio che non ci pensi neanche a fare l'università e allora i genitori si convincono ma perché perché magari sono due operai che non possono stare dietro i figli che non riescono a far leggere i figli per cui c'è un meccanismo e questo la nostra è diventata una società molto più classista di quella che era negli anni 70 e 80 ma perché perché allora c'erano tante opportunità che si aprivano per tutti era una società che stava era al colmo del boom economico dell'industrializzazione e in effetti le opportunità erano l'università le scuole superiori c'era una vabbè sto mettendo insieme molte cose quest'ultimo punto vi do anche un altro allora fisserei già questo primo elemento che ripeto io ho trovato particolarmente interessante cioè l'idea di una classe media così ampia ed estesa vale dal punto di vista degli stili di vita e soprattutto dal punto di vista dei consumi da quel punto di vista si è allargata quindi se ho capito bene l'elaborazione del professor Ardeni si è allargata l'idea di classe media peraltro un inciso che mi è piaciuto anche in modo particolare facendo perdere anche di rilevanza alcuni dei valori che erano fondativi delle culture che sono state dal punto di vista appunto degli stili di vita si sono perdute quelle contadine quelle della classe operaia i valori di solidarietà di condivisione di frugalità di solidarietà di classe questa massificazione della classe media dal punto di vista degli stili di vita e dei consumi ha soffocato questa dimensione valoriale e culturale che questo paese soprattutto per quello che ci riguarda in modo particolare il mezzogiorno conservava in modo importante e questo è il primo tema che abbiamo messo a fuoco poi ha fatto un passaggio sul fatto che mentre la struttura sociale l'idea di una società divisa in classi è stata progressivamente abbandonata dal dibattito al tempo stesso però gli studi le analisi potremmo citare anche i libri importanti usciti negli ultimi dieci anni sulle diseguaglianze è cresciuta in modo significativo allora anche questa contraddizione la crescita del dibattito sul tema delle diseguaglianze quindi della distribuzione del reddito no che ha fatto discutere tutti quanti noi negli ultimi dieci anni ci continua a far discutere in modo rilevante ma l'abbandono totale proprio dalla categoria di classe che invece dovrebbe essere strettamente correlata sì io infatti faccio anche una critica implicita allo stesso lavoro di Picchetti che è il lavoro più più noto più su cui tanti Picchetti ha molte ragioni ma Picchetti non fa che osservare come dire prendere nota del fatto che le diseguaglianze sono aumentate cosa vuol dire adesso vuol dire che quello che guadagna il 10% la quota di quelli che sono i più ricchi è aumentata mentre il reddito di quelli che hanno i redditi più bassi o è calato o è rimasta costante quindi il divario tra ricchi e poveri è aumentato sono aumentati i ricchi vabbè perché questo è l'argomento che alla fine perché i conservatori ma questo argomento è un argomento che trova consensi anche come dire tra i non conservatori perché non si fa niente ma perché si ha questa idea se noi lasciamo liberi gli individui di agire allora vedete ci saranno i Bill Gates che dal nulla diventano in effetti i cinque più ricchi uomini degli Stati Uniti sono persone che avevano genitori di classe media ma sono diventati ricchi allora vedete questo è l'esempio di come no ma il numero delle persone ricche è aumentato sì forse è aumentato ci sono molti più milionari e miliardari di un tempo ma è aumentato moltissimo anche il numero dei poveri quindi allora sì le diseguaglianze ma da dove vengono queste diseguaglianze perché alcuni diventano più ricchi e altri invece no è perché ti dà una spiegazione sì si diventa più ricchi se si ha del capitale ora è vero il capitale cosa vuol dire avere dei noi lo sappiamo la classe media in Italia è quella classe che è riuscita ad esempio ad avere un appartamento di proprietà questo è capitale e in effetti la proprietà di una abitazione in Italia è abbastanza diffusa che confermerebbe che c'è una classe questo è il capitale allora il capitale rende quindi dà un reddito ma però se noi guardiamo i numeri chi diventa ricco sono quelli che hanno molto capitale e perché? perché il capitale rende l'economia si è finanziarizzata insomma ci sono stati tutta una serie di processi ma invece il reddito da lavoro ma se voi guardate ai redditi da lavoro il reddito da lavoro è rimasto quello non è cresciuto addirittura in alcuni casi è rimasto quello proprio nominalmente ma anche il mio stesso stipendio io faccio il professore universitario io se vado a guardare la mia busta paga di quando io ho cominciato l'università non era mica molto diversa o la busta paga di un professore ordinario cioè è cresciuta di pochissimo mentre quella allora perché? perché i ricchi sono ricchi? non è che Bill Gates è ricco perché il suo stipendio è aumentato il lavoro il reddito da lavoro non è aumentato anche per è vero che oggi un manager prende uno stipendio molto alto ed è vergognosamente più alto di quello del suo anche caporeparto ma i grandi guadagni vengono dai capitali non dai lavori non dal lavoro lo stipendio di Bill Gates o di qualunque adesso non ce l'ho con Bill Gates ma insomma di qualunque lo stipendio della sua azienda è piccolissimo tutti i suoi guadagni vengono dal capitale che possiede ora questo discorso sì le disuguaglianze sono aumentate ma cosa manca? manca il perché in questa analisi non basta dire che il reddito da lavoro perché è rimasto costante perché soprattutto per quelle categorie perché c'è una questione di classe ma cosa vuol dire di classe? vuol dire che se io sono come dire se io vado e mi faccio assumere in un'azienda dove ho un certo ruolo e può essere può essere di impiegato può essere di operaio può essere di tecnico quella categoria viene tenuta lì e questo noi sappiamo è un meccanismo che funziona a livello complessivo i livelli degli stipendi non è che li stabilisce il singolo imprenditore poi certo ci sono delle come dire delle compensazioni a livello di azienda ma sono tendenze di lungo periodo perché è stato possibile perché è stato possibile guardiamo indietro perché è stato possibile nell'Italia progressista l'Italia degli anni non lo so parliamo l'Italia dell'ulivo l'Italia perché è stato possibile che il livello dei salari rimanesse quello e invece il livello dei compensi dei manager salisse e continuasse a salire perché c'era una contrattazione che gli imprenditori hanno vinto e perché l'hanno vinta perché c'è stata una contrattazione è stata una questione di classe cioè non è stato un fatto ma cosa vuol dire non è questione di buoni o cattivi nel momento in cui si per esempio si teorizza la flessibilità allora si vuole dire all'impresa guarda che tu puoi assumere e licenziare perché noi capiamo che può essere un vincolo avere un dipendente che lo assumi nel momento in cui la domanda sale e poi la domanda cala e tu ti ritrovi sul gruppone una persona da pagare ma sei in perdita sì ma questo perché è possibile perché c'è uno sbilanciamento e qui è una questione di classe ma quindi alla fine di rappresentanza politica la classe operaia o comunque la classe dei lavoratori dipendenti non si è più trovata una rappresentanza politica che veicolasse la sua domanda di giustizia retributiva perché alla fine quando facciamo i cori perché negli anni 60 e 70 i salari hanno cominciato ad aumentare perché c'era una pressione da parte dei lavoratori una pressione organizzata in una situazione in cui l'economia cresceva e le imprese erano in grado di soddisfare questa domanda crescente di salari crescenti quando le imprese si sono trovate in difficoltà dagli anni 70 da metà degli anni 70 in avanti hanno trovato uno da un lato quando è arrivato Reagan la Tacher hanno trovato la sponda politica che dice bene no cominciamo a diminuire le tasse dall'alto c'è stata invece la spinta perché i sindacati hanno cominciato a difendere l'occupazione era questo il dato principale difendiamo l'occupazione e quindi tra difendere l'occupazione e difendere il salario un compromesso e qui è stato ora nella percezione comune questo discorso sulle classi è stato l'arma vincente perché le sinistre ma in generale da quelle riformiste a quelle più radiche hanno perso di vista il loro referente che dovevano essere le classi popolari allora se c'è una ragione di esistere per questa distinzione tra destra e sinistra non ce n'è un'altra oggi soprattutto non ci sono più le ideologie va bene ma cos'è che dovrebbe distinguere destra da sinistra la destra dovrebbe avere non parlo di fascisti parlo di una destra conservatrice la destra dovrebbe avere questa idea di una società basata sull'iniziativa individuale la sinistra invece dovrebbe essere quella che si rende conto che l'iniziativa individuale ha dei seri limiti che sono dati dalla condizione di origine perché non ci si può fare niente se io nasco sui monti della Basilicata o della Calabria ho una condizione diversa da quella del figlio di un impiegato a Milano è una condizione diversa di origine allora la sinistra dovrebbe avere questo di riferimento alla fine è questa condizione individuale che è quindi una condizione che non è solo dovuta alla come dire all'iniziativa alle opportunità perché siccome siamo tutti classe media allora se tu non ce la fai è perché non hai no non è più questo c'è ancora questo elemento che alla fine poi certo è di classe che vuol dire di condizione sociale la condizione sociale del lavoratore dipendente operaio è ancora una condizione subalterna poi forse torniamo a questo discorso le classi medie sono cambiate le classi medie sono cambiate ma in che senso sono cambiate la classe media ai tempi dei Silos Labini il libro esce nel 74 i dati sono nel 71 72 erano a classe composta per metà da impiegati nell'accezione più ampia c'erano gli insegnanti c'erano non so i lavoratori della sanità c'era tutto quel ceto di dipendenti pubblici eccetera e poi c'erano i lavoratori autonomi cos'è che rendeva qual era uno dei dei modi per accedere alla classe media era il titolo di studio il titolo di studio negli anni 60 e 70 fu una formidabile leva di mobilità sociale cioè mobilità sociale cosa vuol dire la possibilità di cambiare ceto classe i miei genitori sono operai io studio posso andare a fare l'impiegato i miei genitori sono contadini io posso andare in città e fare l'operaio questo era dovuto al titolo di studio che poteva essere la scuola media poteva essere la scuola superiore fu un grande veicolo di mobilità sociale nel tempo e questo si diceva questa è l'evoluzione delle società capitalistiche bene positivo che cosa la società si evolve da industrializzata diventa terziarizzata l'avete sentita questa storia si i servizi le fabbriche diminuiscono di importanza sempre meno la manifattura aumenta ma cosa vuol dire poi in pratica vuol dire che diventiamo tutti dipendenti pubblici no vuol dire che diventiamo tutti commercianti artigiani no vuol dire che sono cresciuti sono quelli i settori sono cresciuti quei servizi principalmente alle imprese servizi alla persona e la moltiplicazione di questi lavori che sono dequalificati che sono oppure sono anche qualificati ma non hanno uno status e quanti e quanti giovani hanno pensato negli anni recenti ah sì la laurea in informatica o comunque studio informatica e vado ad aprire l'impresina che fa il software che fa non lo so queste cose in qualche modo legate la start up la precarietà però c'è dietro c'è la precarietà di un di un settore che volutamente è cresciuto in modo destrutturato in modo dove i contratti di lavoro sono sempre più precari ma lo sono come dire lo sono di natura non c'è necessariamente una volontà come dire io non voglio dipingere i padroni come si dipingeva un tempo come i cattivi che vogliono sfruttare i lavoratori ma questo è il meccanismo è la tendenza naturale di questo sistema un sistema quindi di imprese destrutturate dove i lavoratori sono finti indipendenti perché lavorano poi per le piattaforme sono cresciute tutte queste forme di e poi però se le andiamo a guardare questo diventa un altro tema diventa il problema sono classe media è certo che sono classe media perché non sono operai non sono vabbè non sono chiaramente Silos Labini aveva anche identificato quella classe che lui aveva chiamato il sottoproletariato non so i lavoratori domestici quelle categorie ancora sotto diciamo così al lavoro che negli anni 60 70 c'erano ancora soprattutto nelle metropoli oggi abbiamo questo che potremmo chiamare il sottoproletariato del terziario che quindi non sono più proletari nel senso vecchio non sono operai sono classe media dal punto di vista della vecchia classificazione diciamo che classe media che è questa definizione così mistificatrice diciamo al suo interno al proprio interno ha una polarizzazione enorme cioè tra classe media alta e classe media bassa esistono differenze enormi quindi assolutamente incomparabili e non riconducibili però il fatto di non utilizzare più questa categoria la categoria delle classi nel dibattito politico culturale scientifico tiene un po' nascosto questa evidenza di questa polarizzazione di quella che chiamiamo genericamente classe media e questo crea anche e su questo voglio sollecitare anche Anna Maria crea anche un problema sul piano della rappresentanza politica di di queste classi no perché probabilmente anche per il sistema maggioritario che ormai abbiamo adottato da tanto tempo la competizione elettorale è diventata una competizione elettorale sulla classe media conquistare il centro che è questo refrain che ci siamo ripetuti per anni è diventato l'obiettivo di tutti dalla sinistra dalla destra con le conseguenze che nel precedente libro il professore affronta che sono appunto da una parte il populismo più di recente se vogliamo l'astenzionismo questo è un tema che sollecita una dirigente politica ci sollecita tutti in verità è quella parte del volume che appunto sollecita dovrebbe sollecitare tutti coloro che hanno diciamo passione politica e anche gli addetti ai lavori cioè coloro che sono direttamente impegnati intanto penso questo a un certo punto leggendo mi sono convinta che è stato anche una implicita missione del fallimento della politica rispetto al tema dell'emancipazione del conflitto sociale quello di non riconoscere più la classe operaia è vero che statisticamente si è ridotta nel senso che era quasi la metà della popolazione italiana e a cavallo del covid la dico così tra il 2019 e il 2022 è arrivata a circa un quarto però è vero che c'è è vero che è molto cambiata è vero che pone molti più problemi di identificazione perché non lo ha citato adesso ma invece ne parla nel libro in quella classe operaia oggi ci sono molte persone diverse da noi ci sono persone provenienti da culture da paesi da continenti diversi c'è il tema dell'immigrazione che diverse forze politiche hanno stressato nei modi che più convenivano rispetto alla platea che si stavano scegliendo per la loro proposta elettorale si sono tutti dire che non esistevano più le classi significava in qualche modo autoassolversi rispetto a quello che non era successo o ai risultati che non erano arrivati negli anni al di là appunto di una redistribuzione di reddito che però non fa la classe non basta a perimetrare in qualche modo a connotare le classi dall'altro lato si sono concentrate tutte le proposte politiche le principali proposte politiche Forza Italia La Lega Fratelli d'Italia il Partito Democratico Sinistra Italiana si sono concentrati tutti nella ricerca di un dialogo e di un consenso elettorale su questa benedetta classe media anche riconoscendo io credo che nella proposta politica di di queste forze 5 stelle non le ho citate ma ovviamente sono parte di questa di questo ragionamento anche riconoscendo invece all'interno della classe media delle profonde differenze gli interlocutori di Salvini nella classe media non sono gli interlocutori adesso della Schlein o prima degli altri leader del PD gli interlocutori di Forza Italia non sono quelli di Fratelli d'Italia guardano tutti alla classe media perché la classe media è quella che deve autoconservarsi è quella che ha raggiunto uno status e in questo momento ha il solo obiettivo di autoconservarsi per la parte alta della classe media o chiedere proposte chiedere soluzioni più che proposte in un'ottica redistributiva se è della parte bassa della classe media e quindi in qualche modo il conflitto sociale è stato sostituito da un conflitto distributivo per cui le forze politiche si stanno misurando da decenni ma sicuramente da anni negli ultimi anni sulle soluzioni redistributive che devono più o meno preservare rendite di posizione o comunque status minimamente accettabili rendite di posizione nella parte alta status minimamente accettabili nella parte bassa le politiche redistributive sono quelle che hanno fatto emergere anche la pochezza della proposta politica degli ultimi anni perché poi si gira intorno a diciamo leve che sono ormai sempre le solite nel senso che con i limiti legati all'indebitamento alle politiche europee il patto di stabilità l'equilibrio di bilancio eccetera anche la creatività di questa politica è molto come dire sicuramente contenuta e quindi c'è una proposta politica che va somigliando sempre di più poi qualcuno ci mette dentro l'approccio sicuritario qualcun altro pensa alla comunità al bene comune cioè ci sono dei tratti distintivi ma rispetto al tema reale che è quello delle condizioni di vita delle condizioni di accesso alle opportunità delle possibilità reali di avanzamento sociale le proposte alla fine non sono davvero così differenti lo dico da un punto di vista diciamo più economico evidentemente è chiaro che ci sono invece delle differenze enormi e non voglio minimamente banalizzarle il fatto è che queste proposte si somigliano sempre di più perché il radicamento culturale delle forze politiche che negli ultimi anni in particolare animano hanno le responsabilità di governo in modo più o meno alternato il radicamento culturale di queste forze politiche si è molto affievolito non c'è più riconoscimento anche qui in una classe come poteva essere per la democrazia cristiana il partito comunista di 40 anni fa e questo probabilmente da un lato ha indebolito la proposta politica dall'altro lato l'ha quasi sclerotizzata nel senso che sono tutti fermi nelle stesse posizioni lo sono gli italiani della classe media lo sono le forze politiche e banalmente nessuno va a guardare a quello che nel frattempo abbiamo lasciato indietro che è la classe operaia e che in termini di consenso elettorale è un micidiale astensionismo che ormai in Italia stabilmente si colloca al 40% quando prima dicevo un economista dice alla politica guardate che c'è una prateria e la ricostruzione molto diciamo più analitica e molto più come dire precisa che il professor Ordini fa di tutto quello che è successo in questi anni e che da un lato appunto in qualche modo richiama la politica quello che non è stata in grado di fare dall'altro lato dice guardate che il futuro della sinistra è in un pezzo di società che è almeno il 25% del nostro paese a cui davvero non parla più nessuno e chiudo dicendo che il professore come dire individua in questo e credo che saremo d'accordo tutti quanti noi un pericolo per la democrazia e per la qualità della democrazia del nostro paese infatti non è il futuro della sinistra che qui è in gioco ma è il futuro della democrazia perché se noi guardiamo qual era la rappresentazione sociale quindi politica dell'italiano ai tempi anche solo facciamo 40 anni fa quindi 1984 non del vecchio partito comunista non della vecchia qui siamo negli era ancora una società dove il partito comunista parlava a un certo ceto sociale che non era solo la classe operaia ormai ma era quel ceto sociale che voleva qual era una delle che voleva l'uguaglianza che voleva servizi per tutti che voleva c'era questa questa idea di progresso di emancipazione di giustizia sociale erano queste le parole d'ordine ma non che la democrazia cristiana poi in particolare l'Italia ha avuto questa strana cosa la democrazia cristiana rappresentava anch'essa delle istanze comunque era più ovviamente più conservatrice ma rappresentava le istanze della borghesia ma anche del ceto medio e di una certa ora dagli anni 90 in avanti è prevalsa questa idea che la classe operaia non c'è più adesso semplifico perché questo processo è stato graduale siamo tutti ceto medio e allora il problema quale diventa non è più non c'è più il conflitto sociale ovviamente se non c'è più la classe operaia siamo tutti ceto media non ci sono più i presupposti allora tutto si sposta sul piano dei diritti se ci sono diseguaglianze è perché non tutti possono esercitare i loro diritti e allora il piano proprio si sposta non è più una questione di classe è una questione di diritti bisogna dare il diritto all'istruzione e poi si va sul piano dei diritti li possiamo chiamare come li chiamiamo i diritti il diritto di genere il diritto si va su piani che sono diversi diritti individuali il discorso si sposta completamente ma è un discorso che vanifica completamente la lotta per le eguaglianze perché quando noi parliamo di diseguaglianze parliamo di diseguaglianze allora il discorso viene posto semplicemente e solo e sempre in termini economici e se va bene negli ultimi anni se va bene in termini di genere il discorso sulle diseguaglianze si ferma lì non sentirete mai che differenza c'è nel messaggio politico tra sinistra italiana PD non lo so la Lega prende Movimento 5 Stelle il loro referente il loro linguaggio qual è certo il PD mette più l'accento sul fatto che le donne devono avere le stesse opportunità degli uomini non c'è mai un riferimento alla condizione sociale di origine io voglio dare questo messaggio la classe operaia per essere molto schematici esiste ancora abbiamo un quarto dei nostri lavoratori che sono in quella classe poi ci sono certo la classificazione l'altro c'è un quarto si è molto allargata questa classe perché loro ti dicono è perché la classe media oggi si è allargata sì ma l'accesso alla classe media soprattutto la classe medio alta invece si è ristretto mentre nella mia generazione la mia io sono la generazione rappresentativa del fatto che genitori di una classe bassa potevano avere dei figli che in termini di classe avevano l'accesso a un'altra classe superiore oggi questa mobilità sociale non esiste quasi più in certe zone del paese non esiste per niente non si pone nemmeno il problema e la cosa grave è che questa mobilità sociale passa ancora per l'istruzione passa ancora per l'istruzione e oggi ancora l'istruzione è un ma lo è diventata in un modo terribile nel senso che un tempo la laurea come dire è una garanzia oggi nemmeno la laurea è una garanzia il diploma superiore non ne parliamo si ti prendi il diploma superiore dopodiché dopo di che conta ancora la condizione di classe conta ancora la condizione di classe che vuol dire una condizione economica di difficoltà insomma è una condizione che non permette l'avanzamento sociale la sinistra la sinistra ma la sinistra tutta ma anche quella che si dice radicale ma la sinistra ha perso completa allora dopo l'89 il 91 se vogliamo ha perso completamente di vista ma perché una volta era il partito della classe operaia allora si è cambiata l'ideologia vabbè adesso non si parla più di rivoluzione di cambiamento del sistema ma non importa dovrebbe essere ancora il partito di quelli che dicono io non ce la faccio a far cambiare di classe mio figlio non ce la fa non è possibile io se sono donna una donna figlia di un operaio se lo può scordare ma anche un uomo figlio di un operaio se lo può scordare certo ci sono i casi che allora siccome ci sono i geni e ci sono quelli più fortunati guardiamo i grandi numeri questa è la realtà è la realtà quindi di un messaggio politico che si è fatto ha fatto proprio questa narrazione in questo senso io vabbè questa è la battuta ma Warren Buffett ha ragione la lotta di classe c'è stata e l'hanno vinta loro ma l'hanno vinta al punto i ricchi da far credere agli altri che le classi non ci sono più che siamo tutti uguali e quindi abbiamo tutte le stesse opportunità che è una ma non è una è un'invenzione una sonora sciocchezza perché lo lo si dice perché questi numeri lo mostrano mostrano che se tu sei figlio se hai una certa condizione sociale non c'è possibilità e questo è quello che va bene abbiamo ho esaurito tutto il tempo che avevamo a disposizione io mi scuso con quanti tra voi avrebbero voluto intervenire ma mi è stato proprio detto dalla regia non avevamo proprio possibilità se volete farmi delle domande è questo che stavo per dire il professor Ardeni è disponibile anche a confrontarsi con voi un'ultima e anche a firmare il libro per cominciare dai nostri un'ultima battuta per salutarvi e ringraziarvi non è un libro di storia delle classi sociali ma ci sono tutti passaggi storici nelle quali le classi sociali nel nostro paese hanno agito un ruolo segnando una tappa fondamentale mi piace ricordare uno di questi passaggi perché parla della storia della fondazione parla di divagno parla di questa terra che è quel momento nel primo dopoguerra quando la borghesia industriale nel nostro paese saldò quel patto scellerato con il nascente fascismo che il professore cita il bienio rosso queste mura questi archivi questo posto che la ospita parla molto ha molto a che fare con quella vicenda e quindi l'averla ricordata ci ha fatto particolarmente piacere e con questo vi ringraziamo ringraziamo Anna Maria Candela il professor Ardeni e tutti voi per essere stati qui con noi grazie ringrazio l'editore anche perché ha permesso tutto questo e grazie a voi di avermi invitato benna grazie a tutti